Ecco un esempio di come si può fare. Ed eccoci qui. Una volta che sono agganciate, i bambini possono collegare il treno o catena di montaggio allo strumento, utilizzando la connessione jack in alto a sinistra. Ora lo strumento impiega un breve intervallo di tempo a montare automaticamente i diversi spezzoni e memorizzare il filmato risultante. Nel mentre, il boccascena luminoso, come avete visto, mostra una luce di colore viola intermittente. Al termine dell'operazione, come avviene dopo aver registrato una singola scheda, lo strumento passa automaticamente alla fase di visione del filmato e mostra l'anteprima del filmato realizzato.